Coach Bicicchi è arrivata una sconfitta per 3-0 contro la Blue Volley, dove può ripartire però questo pesce? No vabbè, noi sapevamo che questo comunque è un campo ostico per noi e quindi l'avevamo preventivato che si potesse perdere questa partita. Loro hanno un'altra struttura di squadra, hanno servito molto bene, noi abbiamo sofferto tantissimo, pensavo di fare un po' meglio sinceramente, abbiamo fatto tanti errori, però niente, come dicevano le bimbe, non è che è successo nulla di particolare. Ci serve per maturare, per crescere e per capire che se vogliamo stare nella zona alta della classifica dobbiamo essere più efficienti, più squadra e in certi momenti più lucidi. Stasera ci è mancato completamente la squadra in generale, probabilmente anche per merito loro, che sicuramente hanno un tasso tecnico un po' più alto rispetto al no. Se loro giocano palla vicino a rete non riusciamo a costruire, dobbiamo avere un servizio sempre al massimo dell'efficacia e la prima palla deve essere ricezione, attacco un po' più positivo, perché così si regalava a pallone. Grazie mille. Prego, buona serata e complimenti al Quarnata. Grazie.